Il Centro Studi Grande Milano svolge un ruolo secondo me molto importante perché all'interno di una realtà così variegata da un punto di vista culturale come è la città di Milano e la sua città metropolitana, animare il dibattito rispetto alle linee programmatiche, alle linee di indirizzo che si devono interpretare nei prossimi anni è decisivo. Il Centro Studi ha la qualità di mettere insieme a ragionare tutta una pluralità di soggetti politici, soggetti accademici, soggetti istituzionali che possono fornire un contributo veramente proficuo al dibattito da sviluppare.